Quando Amrafel, re di Sennar, Ariok, re di Ellasar, Kedorlaomer, re dell'Elam e Tideal, re di Goim, fecero guerra contro Bera, re di Sodoma, Birse, re di Gomorra, Sinab, re di Adama, Semeber, re di Zeboim e contro il re di Bela chiamata Zoar, tutti questi si qualizzarono nella valle di Siddim, che è il Mar Morto. Per dodici anni essi erano stati sottomessi a Kedorlaomer, ma il tredicesimo anno si erano ribellati. Nell'anno quattordicesimo venne Kedorlaomer insieme ai re che erano con lui e sconfissero i Refaim ad Astarot Karnaim, gli Zuzim ad Am, gli Emim a Save Kiriataim e gli Urriti nelle loro montagne di Seir fino a El Paran, che è presso al deserto. Poi ritornarono indietro e vennero a En-Mispat, che è Cades, e devastarono tutto il territorio degli Amaleciti e anche degli Amorrei che abitavano in casa Zontamar. Allora il re di Sodoma, il re di Gomorra, il re di Adma, il re di Zeboim e il re di Bela chiamata anche Zoar, uscirono e si schierarono in ordine di battaglia contro di loro nella valle di Siddim, e cioè contro Kedorlaomer, re dell'Elam, Tideal, re di Goim, Amrafel, re di Sennar e Ariok, re di El-Azhar. Quattro re contro cinque. Or la valle di Siddim era piena di pozzi di bitume. Messi in fuga, il re di Sodoma e il re di Gomorra vi caddero dentro e i restanti fuggirono sulla montagna. I nemici presero tutte le possessioni di Sodoma e di Gomorra e tutti i loro viveri e se ne andarono. Andando se ne presero anche Lot, figlio del fratello di Abram, e i suoi beni. Egli risiedeva appunto in Sodoma. Ma un fuggitivo venne ad avvertire Abram l'ebreo mentre egli era attendato sotto le querce di Mamre, l'amorreo, fratello di Escole e fratello di Aner. Questi erano alleati di Abram. Quando Abram seppe che suo fratello era stato condotto via prigioniero, mobilitò i suoi mercenari, serbi nati nella sua casa, in numero di 318 e intraprese l'inseguimento fino a Dan. Poi divise le schiere contro di essi. Di notte lui con i suoi serbi li sbaragliò e proseguì l'inseguimento fino a Coba, a settentrione di Damasco. Ricuperò così tutta la roba e anche Lot, suo fratello, e i suoi beni, con le donne e il rimanente personale. Il re di Sodoma gli uscì incontro dopo il suo ritorno dalla sconfitta di Chedorlaomer e dei re che erano con lui nella valle di Save, detta pure la valle del re. Intanto Melchisedec, re di Salem, fece portare pane e vino. Era sacerdote di Dio Altissimo e benedisse Abram dicendo Sia benedetto Abram dal Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra e benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha dato nelle mani i tuoi nemici. Abram gli diede la decima di tutto. Poi il re di Sodoma disse ad Abram Dammi le persone e prendi pure per te i beni. Ma Abram disse al re di Sodoma Ho alzato la mano davanti al Signore Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra. Né un filo o una correggia di calzare, né alcunché di ciò che è tuo io prenderò, sicché tu non possa dire Sono io che ho arricchito Abram. Io non centro soltanto quello che i soldati hanno consumato e la parte spettante agli uomini che sono venuti con me, Escol, Aner e Mamre. Essi, sì, riceveranno la loro parte.